Ammontano a 9,75 milioni le risorse che arriveranno all'Umbria per i progetti di ampliamento del deposito di Santo Chiodo e la ristrutturazione dell'ex mattatoio di Spoleto. Lo hanno reso noto la Presidente della Regione, Donatella Tesei, e l'Assessore alla Cultura, Paola Gabiti, al termine della riunione della cabina di coordinamento integrata sulle misure per lo sviluppo economico delle aree colpite dai terremoti del 2009 e del 2016, previste dal Fondo Nazionale Complementare al PNRR, incontro cui ha partecipato anche le commissario straordinario Giovanni Legnini. Il progetto, relativo all'ampliamento e miglioramento del centro esistente, attraverso la realizzazione di un nuovo edificio adesso funzionalmente collegato ed il recupero dell'ex mattatoio, hanno evidenziato Tesei e da Gabiti, si propone come continuazione di una esperienza già realizzata e rivelatasi unica nel panorama nazionale ed europeo, relativamente alla creazione di un deposito temporaneo di ricovero dei beni culturali mobili in emergenza e per la loro messa in sicurezza e successivo restauro. L'obiettivo è di incrementare la capacità ed efficienza della risposta alle emergenze che coinvolgono i beni culturali. Allo stesso tempo si tratta di un'attività che può dare anche una spinta propulsiva alla creazione di imprese e allo sviluppo di attività formative e di ricerca. La realizzazione dell'intero progetto dovrebbe fare di Spoleto un vero e proprio hub della custodia, del recupero, della valorizzazione e della promozione dei beni artistici e culturali.